Come si dimette? Come mai? Cosa succede? Dove stiamo andando? Qual è il problema? E solo una parola forte può incoraggiarci e farci vedere le cose con la luce giusta. Bene, questa parola forte, chiara, positiva, illuminante è il Vangelo della seconda domenica di Quaresima che tutti gli anni ascoltiamo, conosciamo molto bene, è l'acqua nuova donata da Gesù al Pozzo di Giacobbe alla donna samaritana. Un dono che poi si riversa su tutta la città dei samaritani. Perché è la parola forte di cui abbiamo bisogno? Perché non sottolineiamo mai a sufficienza che quel Vangelo parte dalla povertà, dal bisogno di Cristo. È lui che è seduto lì perché ha sete. I discepoli sono andati a prendere del pane perché lui ha fame. Quindi è stanco, è assetato, è debole. E noi rimaniamo sempre un po' spiazzati al pensare che anche Dio possa avere un momento di debolezza, di stanchezza, possa tendere la mano, chiedere da bere. Ma se lo capiamo, diventiamo assai più disponibili anche ad accogliere la debolezza dei pastori della Chiesa. E questo sta avvenendo con le dimissioni di Papa Benedetto. Anche lui dice, sono anziano, ci sono delle fatiche che non riesco più a sopportare. E quindi lascio volentieri il posto fiducioso che il Signore guida a lui la sua Chiesa. Ecco, in questo momento Papa Benedetto è come Gesù seduto al pozzo e chiede da bere. E superato un po' l'iniziale diffidenza, ecco che in realtà Gesù, che sembra debole, sembra un poveraccio sconfitto, ha un'acqua nuova incredibile da dare. E il Vangelo termina con un'acqua nuova che sorge inaspettata da un altro pozzo molto più profondo di quello di Sicar. Ed ecco che tutta una città è coinvolta in questa fede. La debolezza di Cristo ha vinto. Bene, il Papa Benedetto, leggiamolo così, nel suo Lasciare la guida della Chiesa. In realtà lui si affida totalmente alla potenza di Dio. Questo Dio che sembra debole, questa Chiesa che sembra debole, in realtà è espressione di una potenza che può salvare e portare acqua nuova all'umanità. Il Papa si ritira, ma non si assenta. Anzi, cercherà attraverso il silenzio e la preghiera di portare nel mondo oggi ciò di cui il mondo ha bisogno, che è la grazia. Immaginiamolo, quest'uomo che si ritira in preghiera, nel silenzio, e continuerà la sua opera di mediazione. Mi viene in mente nella Bibbia che questo è già accaduto. Mosè, Esodo, capitolo diciassettesimo. Mosè si ritira sul monte durante un momento di battaglia del popolo che esce dall'Egitto contro gli amaleciti. E grazie alle braccia alzate di Mosè sul monte, il popolo vince questa battaglia, supera questa prova. Bene, il Papa farà come Mosè. Benedetto XVI rimarrà nella Chiesa donatore di un'acqua nuova, che è la salvezza che viene da Cristo, il quale può apparire anche debole, ma è sempre lui il salvatore della sua Chiesa. Guardiamo allora questo evento con speranza. C'è davvero speranza, c'è un'acqua nuova, viene da Cristo. Cristo ama la sua Chiesa, non le farà mai mancare un pozzo nuovo da cui tutti abbederarci e trovare salvezza.